Nell'episodio precedente del sogno americano Fati vaghi Hey, what's up, girl? Hey, what's up, guys? How are you doing? You guys like nudes What? Siamo per piacere e evitare di lasciare le nostre tracce Oh, io sto cercando di lavorare, Cristo santo Sto cercando di abbi quella la cazzo di porta Non so come fare Corri via Aspetta Ma che cazzo è successo? No, Frank Porca puttana Porca puttana, Frank Put your fucking hands up Put your fucking hands up What the fuck are you doing? All you gotta say is that I'm here to get some work, you know? Yeah I'm sorry We just fly a few days ago here We're trying to go big We're trying to do something Shit Che cazzo Io voglio una cazzo di pistola E faccio un casino Che cazzo di zola che è la zona delle gang Questi vanno cercati Mi vendicherò Che cazzo di raggiungi e giro che cazzo di sport Qui cazzo di raggiungi e potec ma officer Che vita di merda io voglio fare io voglio rente spaccare tutto do nascondermi a piedi da qualche parte officer Voglio un'arma voglio una cazzo di arma voglio difendermi mi sono rotto il cazzo Mi sono fottutamente rotto il cazzo voglio fare i soldi voglio un'arma voglio sparare a sti figli di puttani mi sono rotto il cazzo ora Che cazzo è questo? Hello, mi senti? Oh, è questo un vocale? Oh Hello, sir Oh Sorry you guys didn't see anything you guys, okay? We go balla Oh, the balla shot you yeah more the ballas, would you we go shot? By ballas or by bogos. I don't know yellow bands Mi sta avvenendo il cellulare Bella macchina vero cazzo Ne balzo il giro solo per sta macchina Io sono triggeratissimo perché sta sballando Ma All right, sorry about that boys get a little lost when they asked me to go new places We didn't know we have to go around Oh shit, my head hurts All right guys, hey feel better, okay? We'll be all right Thanks Hello Sorry, I got kicked in my face You got kicked in the face? Yeah I'm in the ice pack and secure that all over your face, these ice packs So What's your name? Giorgio Giorgio? Okay I'm just gonna get you up, uh, what city are you in? What? What city are you in? What's the name of the city? Uh, Los Santos Good, 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 good I remember, I think I remember it Good, 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 proud of you All right, do you want to come to the hospital for a ride or do you just... Yeah, my friend is inside the ambulance Okay You're right, I'm not in the office Ah, my God, my God, my God, my God, I'm gonna kill you Come state? Raga, I'm telling you, if you give me a pistol, I'll find you for all the city And I'll find you to arrest me Oh 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 Oh, riempi Oh, my God You're right Now I feel a bit better Do you care about it, Chris? Chama Matias No, allora se vogliamo fare le cose Comunque la prossima volta A capo lo faccio io Perché avete rotto i coglioni, ok? E poi metta parla a casa, mignotta Ma non stiamo a fare una roba due ore La fermi, dai Oh, io me ne ero andato Io me ne ero andato Non ce l'ho il numero suo Non so nemmeno qual è il suo numero Ma capisci che io me ne ero andato E stavo cercando, stavo lavorando La prossima volta io dirigo E voi vi muovete Ma lo faccio io Oh, io gli ho detto pisciala in qualche modo E me ne s'ha andato Io sto cercando di lavorare Quando la vedi così Là c'era da prendere Amen, gg, la prossima Così I sordi E i sordi li fai Ma se vedi che succede Quando le cose non le fai come Cristo comanda Chi è che ha il numero di quella? Ma che cazzo ne so A me mi piace il cazzo Brodero, tre armi Lei inginocchiata e legata in mezzo a una strada Voi sui tetti Porco due E li facciamo venire tutti Non siamo schedati Oh, Agri Come sulle manette Mi metteva l'era meglio L'importante che abbiamo capito Che la prossima volta che volete entrare in questo mondo Io comando Perché se no andiamo a finire male No, spariamo a vista No, 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 no Hai visto che cosa succede quando comandi te? Mo comando io e bado Io non ho comandato un cazzo Io stavo a cercare la casa Ok, da adesso lo faccio io Ok, hey, let's go to field trip, guys Woooo, let's go No Again? Chiaramente, comunque Andiamo Allontaniamoci il sonno da qua Dalla centrale No, 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 che cazzo Che cosa? Qua davanti alla centrale Ok Che cosa? Allora, è tutto completamente sbagliato Facce scoperte Testimoni Senza sapere cosa fare Non preparati In mezzo con la gente vicino Ammodate il numero Mancava solo che gli leccavo la fica in mezzo alla strada E stavamo a posto Io quello volevo E ho capito, sì Ma allora non andiamo là per fare qualcosa Che poi deve essere un'altra cosa Dovevo fare quello? Bisogna andare a fare solo quello Se non si può Cioè, 30 secondi per capire se lo puoi o non fare Se la cosa va male Entra in macchina e te ne vai Meglio non prendi i soldi che finì così Io l'ho detto a Giorgio Se stanno a fare supercazzola Perché stanno a fare Io stavo a cercare la cazzo di macchina Sei la cazzo di casa Perché sono tutti loschi? Non possiamo agire così C'è bisogno di più tempo Per capire cose Perché se siamo così Questa volta Guarda che Ci è andata bene Che non si sono fatti domande E meno male che sono arrivati quell'altro Perché tra virgolette Ma che domande? Ci hanno controllato Non abbiamo sparato Non abbiamo fatto un cazzo Io ho fatto Big pippa Io ho fatto Big pippa Manco Io gli ho detto Solo Si sono Sto pettero Ho capito Ma ci è andata bene Perché se arrivavano dopo Quando avevamo ancora la roba addosso E metti Che ci trovavano vicino alla macchina Eravamo fottuti Invece così Fortunatamente Ci è andata bene Perché sì Abbiamo un po' Tancato Però fondamentalmente Stavamo qua E nessuno si è fatto domande Però abbiamo sbagliato Tutto Tutto Come cazzo fammi Non si accede al genere Come cazzo fammi È facile Arrivi con la macchina Qualcuno ti vede in faccia Li diciamo addirittura Che cosa stavamo facendo Vuol dire che con l'operazione Poi è a puttane Finito Ok C'è un problema di fondo C'è un problema proprio di fondo In questa cosa Quelli per quale cazzo di motivo Sparano a vista Perché stavamo in casa sua Che cazzo famo Semplicemente A uno Vieni da qua Io devo mangiare Io devo mangiare per forza Ma Mattia che ti ha detto Undo sta Se volete mo lo sentiamo E ci parliamo Le famose vieni a piare Stavamo secco Gli mandammo a posizione Ma mettiamosi qua davanti Legale Semplicemente chiamamo Mattia Gli chiediamo se ci può passare E andamosi alla strada La grossa Va di qua Di qua Di qua Oh I wanted to ask you for help Because We just I heard Yeah You know I heard George called me He's coming down to meet me here Ok So why don't you Yeah yeah We are together But we don't know how to get Get there You know Oh ok Ok On the west side of the city On your map There's like a pier Right A big pier Eh mi sa che è un arretto il peso All right All right La panchina Non devo parlare Non devo parlare Ma non devo parlare Porco due Sì se gli dicevo Eh non ci parlo Così Così peggio Ci punto la pistola E ci rubano di nuovi soldi Che abbiamo prelevato Mi stai prendendo per il culo Frate ti giuro C'è Dei tantri Ah mo te ne devo vedere Mo io non dico niente Sto zitto così Meno male che ho fatto così E ce ne siamo andati E non ci hanno fatto un cazzo Mi stai prendendo per il culo Cioè quelli là Se non gli dicevamo un cazzo Col zano che continuava a parlare col tipo Tiravano fuori il ferro E risuccedeva la stessa Cazzo identica scena Ma è semplice Se tu gli dici Che sei debole E se ne approfittate Brother gli ho detto Lo sai che gli ho detto Gli ho detto Non ci abbiamo una lira Gli ho detto questo Gli ho detto Non ci abbiamo niente Gli ho detto Io come sto fatto io Se vedo che do un ordine Questo me lo fa a comando Gli rodo Cioè gli spacco pure la mano Eh ce l'hai un'arma addosso? No Se c'è una pistola Ti dicevo pure sì Ma non ci abbiamo niente Abbiamo pure prelevato I e te Cazzo famo Dammi uno schiaffo Dammi il cazzotto ora Dammi il cazzotto Fammi scendere l'adrenalina Fammi scendere l'adrenalina Orca puttata Pure io c'è C'è sto C'è sto C'è sto Do sta quell'altro? Che cazzo sta? Porco se lo so Se lo so unculato Se lo so preso Centocento Cri Vai Join Porco due Stavano ancora all'asta Stavano da spettacri Allora Allora Oh Oh shit Easier Allora Thank you Thank you Bye 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 Cri Tu ti rendi conto Che ti stavano per pullappare? Sì Tu non ti sei accorto Di niente? No Porca puttata Criti si stavano per inculare In tutto questo Porco zio No scusa 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 Se siamo già picchiati Ma io mi sono stato a faro del culo a me So quattro volte che perdo occhiali Porco zio Porco Guarda Mi sono fallato Niente Oh McGregor dei poveri A canna Ciao Matti Hey what's up boys Yo what's up This is uh My old friend Forty Forty Nice to meet you Nice to meet you Frank Chris And George Nice to meet you Hello Hello How are you How are you Oh you did Oh perfect Perfect That's great Matti That's a shit to my shit to Matti Uh uh What I mean the shit is happening The shit is happening Yeah but the real shit The big one bro Oh yeah yeah I heard you guys got into some Some confrontation Huh Yes Yeah we got into the shit Because like We went for a dirty job But my friends Like so much Fika That the shit It means pussy He likes boobs a lot Yeah someone wanted to Wanted to send us nudes So I just wanted to To see them Yeah That's no good dude If you If you Like If we are in trouble Maybe we should just Think about the work that we're doing Not about pussy Alright let me clear out the booth Just hang out for a couple minutes Sure And uh We'll get moving Thank you Matti Alright boys Come jump in the van Bye Okay Okay Yeah Where we going Now first First place we're going Is a clothing shop We gotta get some masks For you boys Okay Che cazzo fai Ci sta Giorgio Yo Sta maschera ti assomiglia Qual è? Guardala È la numero 7 Ma questa è la mamma di Frank Ma frate Ma che cosa cattiva gli hai detto Dai Gli hai detto una cosa cattivissima No Ahahah The juice On you Fuck Oh Ahio Ahio Gatzo de guardia oh oh all right you guys ready to roll sure let's go yo we're gonna win a lot of money 21 baldoria grande vittoria bro falli tutti prendici a sto cash frate non hai capito siamo per fare i soldi forti oggi i believe in me oh my god oh my god okay blackbar again okay it's just it's a baiting machine it's a money-making machine scam oh boys if you guys are looking to spin this thing this thing's fucking juiced up and it's ready all right bro get the fucking air one for you this is this lady scamming man oh fuck i'm sorry i'm sorry it's fine it's fine it's fine it's fine i know the prostration all right can i go for it go for it matthias go for it yeah go man let's go matthias let's go come on come on come on come on one thousand one thousand i'll try i'll try it come on you got this you got this let's go out in the building here we go come on it's close it's close out in the building oh no fucking at least one thousand still good at least one thousand no black bar let me do it let me do it let me do it let me do it let me do let me do let me do let me do it come on baby payout this is a pump and dump big payout come on oh that's at least another thousand consistently one i don't know man i'm just lucky i guess come on baby you better give me five no bro this is bullshit let me do it let me do it let me do it oh shit bro you good oh it went faster than usual here we go audi black bar black bar shit black bar here fuck wani dovete comprare le fish dalla frate ma io non so come si punta frate io non so oh cazzo frate io mi faccio un altro giro fan culo fan culo fan culo fan culo zitto soffia soffia oh 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 2000 2k bono pog andiamo a prendere sto k dei fish vai let's go oh brother please stop stop oh no black bar again please stop listen listen last one okay last one and then i win it all back in blackjack yeah blackjack we're gonna clean the house but this wheel is cleaning me man oh no black bar again so i mean we should like play a little bit of blackjack but i think there's a lot of other game that we can play man i'm so bad at betting for god's sake so you guys want to play the high roller tables or the low how much is the high one uh the high one is 1k per hand what okay 250 maybe is more affordable for me okay okay let's go all right let's do it okay i go nine but she goes three so i'mma be like i'm gonna stand right now let's see my ass 17 okay it's completely rocked bro completely yo i just want to i want 2k with the just one spin see nice oh just nice did you get some chips mr chris no i didn't i'm just i just want to see you guys okay all right okay we're good all right oh shit what the fuck we we got 20s though let's hope she so she doesn't pop it yeah yeah sto per forza ma lui non c'ha le figure what you have 20 as well come on let's go 21 for sure what the fuck is this i promise i promise this is rigged bro bro this is rigged as let me bet what was i supposed to say oh to madrid yes 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 to her yeah to be honest uh if my friends george uh maybe later go to like sleep i tell you what you need to say in this extremely i mean you can tell him if you want you gotta say little bro you know like loud if this happens you know because it's something incredible i'll get another card i'll try this okay this shit is rigged he has 13 oh 17 oh 17 nice nice i'm a fan yeah 17 is my favorite if it is my favorite number it's gonna bring you luck yeah yeah okay 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 we're gonna make money i told you how much do you win how much do you win how much do you win i mean i like yeah 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 i double if you if you go if you go if you file blackjack friend you'll do okay 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 i hate this yo let me go for it go for it go for it trust me no card yeah okay never oh man how much do you let's go let's go hey let's go come on come on give it to me give it to me give it to me oh it's good nice that's nice 18 isn't bad i'll take it yep so i think if you hit a blackjack you get double plus a half yeah oh really yeah one place on s yes if you go blackjack i'll say i'm gonna i'm gonna i'm gonna change table dude i'm gonna play all these 50 that i got i don't have i i lost all my fishes fuck this yeah yeah fuck this come on come on come on oh mamma mia che numeri di merda well like i wanna die here okay stay 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 let's go bono yeah 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 i'm gonna change table i'm gonna oh wait 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 no 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 go for it go for it i'm with you i'm with you i'm with you i'm with you yeah yeah i'm with you you're never alone you're never alone it's rigged it's rigged i mean it was a footballer so i didn't know it he went so bad in his carry after it oh nice poor wesley snyder i was down bad too i was down really bad that's good that's good she's gonna get a 10. she's got a 10. look 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 bullshit no yo yo don't give me that energy buddy leave the fucking table i i fucking love your bad just like that baby we're fucking up we're fucking up we got all that wheel spins back let's fucking go i'll do one i'll do one i'll do one i'm that that's my one that's good that's the good one that's the good one it's one thousand it's one thousand it's one thousand no it's not nice fuck my life fuck this shit i'm down by 500 five benjamin i'm gonna go for one i'm gonna go for one bro you're just wasting all your money yeah stop i i just have the um the fish just trade them get the money come on come on come on come on frank stop don't move don't don't move don't move don't move wow what the fuck 10.000 10.000 oh let's go what the fuck fuck it come on fuck champ yeah i knew that dude i knew that fuck sick man I'd like to go out of here before you lose valia mettere dentro la tm bravo zi he ha vinto 10k oh por- fucks sake I won bro he won 10.000 dollars holy shit oh dammi la parte mia più dena hahahahha let's go nooo il prossimo episodio del sogno americano i ragazzi oh cristo oh yeah yes officer che cazzo così mi sono spaventato che cazzo ho fatto ora